Ho fatto 200 kg di back squat ed ecco 5 cose che ho imparato nel farlo. Ciao, io sono Nicola Sorbini, sono strength and conditioning coach specializzato nei fattori neuromuscolari. La prima cosa che ho imparato, non devi per forza di cose fare powerlifting specifico per diventare forte. Puoi certamente fare altre attività, allenarti sì per diventare forte, ma non necessariamente dedicarti solo ed unicamente al powerlifting. Io ad esempio faccio un allenamento che assomiglia molto di più al powerbuilding durante la stagione più invernale, diciamo da ottobre fino appunto come adesso, marzo, aprile al massimo, mentre magari durante la primavera, durante l'estate, mi dedico completamente a tutt'altro. Gioco a tennis, gioco a basket quasi tutti i giorni, vado in mountain bike sui colli bolognesi almeno 1-2 volte a settimana anche più spesso e dedico molto meno attenzione all'allenamento diretto della forza massima. In più ormai mi alleno molto spesso anche a livello di conditioning, a livello cardiovascolare e metabolico e utilizzo spesso ad esempio il kettlebell training. Insomma, se anche facciamo altro, non usiamolo come una scusa per giustificare il fatto che non siamo forti. Possiamo comunque diventarlo. Numero 2. Attaccare il punto debole paga praticamente sempre. Sono anni che lo dico, anni che lo ripeto, forse ormai posso cominciare a smettere di dirlo, ma i quadricipiti sono sempre stati il mio punto debole a livello di arti inferiore. Sono molto forti di glutei, ho buoni rettori spinali, ma per qualche motivo i miei quadricipiti, probabilmente per genetica, per leve nello specifico, sono sempre stati più indietro. Beh, effettivamente negli ultimi tre anni ho praticamente annullato, ho sacrificato totalmente il back squat a favore di esercizi come squat bulgaro o ARFES di cui ho recentemente parlato. Ho sicuramente incrementato di molto la forza nei quadricipiti e effettivamente l'ho sentita la differenza dopo tanti anni di lavoro di questo tipo quando ho fatto i 200 kg di back squat. Ovviamente il tuo punto debole può essere diverso dal mio. 3. Alcune alzate ti fanno aumentare la forza massima, altre la esprimono. Questo è un insegnamento che ho preso da Louis Simmons, recentemente scomparso, ho dedicato un post a lui perché per me è stato un grandissimo e sempre sarà un grandissimo maestro della forza e effettivamente questo è uno dei suoi insegnamenti più importanti secondo me. Con alcuni esercizi effettivamente costruiamo la forza, mentre con altri la esprimiamo. Ovvero, io ho costruito molta forza con lo squat bulgaro e con l'high bar squat che è un'alzata in cui sono davvero pessimo. C'è una differenza abissale tra il mio high bar squat, quindi il mio squat con il bilanciere alto sul trapezio rispetto al mio back squat con il bilanciere basso sul trapezio, quello più tipico da powerlifter. Negli ultimi tempi avendo spinto sull'high bar squat e praticamente mai ho allenato il low bar squat ho fatto comunque 200 kg di low bar squat, non di high bar squat. Che cosa significa? Significa che io ho costruito la forza con altri esercizi ma quando voglio esprimere al massimo la forza che ho ecco che devo passare a un altro esercizio. In questo caso, nel mio caso specifico, ho costruito con squat bulgaro e high bar squat per rafforzare i quadricipiti e ho espresso però comunque la mia forza maggiore e la mia forza massima attraverso il low bar squat. Allenare la forza è il videocorso online per imparare a programmare e periodizzare l'allenamento per l'incremento della forza massima muscolare. Metodi, progressioni, schemi e principi alla base della forza massima, dal principiante all'avanzato e dalla teoria alla pratica. Se vuoi imparare a programmare alla forza, scopri il corso su nicolastrubini.it 4. La lungimiranza conta più dell'intensità e probabilmente più di quasi tutto il resto. Una volta che sai far bene gli esercizi, che segui dei buoni programmi di lavoro, la lungimiranza è quella che effettivamente paga. L'allenarsi per lungo tempo, seriamente. Più che il fare il ciclo sciocco, i tre mesi all-in in cui non vedi altro nella tua vita se non il massimale di back squat. Non c'è il programma magico, ma c'è l'allenarsi seriamente e costantemente in maniera disciplinata per tanti anni. 5. Con chi e dove ti alleni conta più di quanto non pensiamo molte volte. Che cosa significa questo? Significa che io, ad esempio, e magari anche tu con me o molti, magari fatemelo sapere nei commenti, difficilmente riuscirebbero a usare certi carichi in casa, da soli, in uno spazio ridotto e magari con un'attrezzatura non professionale. Personalmente questi carichi in casa non li ho mai neanche sfiorati, mentre invece in palestra, in ambienti in cui mi sento sia più sicuro, sia di avere più spazio, sia avere compagni giusti di allenamento, contribuisce enormemente all'espressione della forza massima. Questo non è valido per tutti, ma è valido per molti. Nel mio caso specifico è stato il mio compagno di allenamento, Federico, che mi ha spronato a fare i 200 perché mi ha visto fare i 190 e i 195 molto rapidamente e mi ha detto guarda che oggi è il giorno giusto per fare i 200, prenditeli che magari poi settimana prossima vai a giocare al campetto a basket, rinuncia a squattare e non li fai più magari. Se non avessi avuto lui probabilmente non avrei fatto quei chili. Ormai sono tanti anni che mi alleno, sono tanti anni che alleno, full time diversi atleti dal powerlifting al powerbuilding e a sportivi di ogni genere, ma come puoi notare c'è sempre qualcosa da imparare. Spero che questo video ti sia stato utile, se così è fammelo sapere, lascia un commento e se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale. Nel frattempo ragazzi, come sempre, allenatevi.